E ora lo sport volley in Champions, l'Ube battuta 3 a 1 dallo Zaxa e nella gara di andata dei quarti. Bisognerà vincere mercoledì in Polonia per continuare la corsa. Pierpaolo Rivalta. Sarà un giorno un po' di patimento, diciamo così, che è un giorno di riposo di patimento, poi bisogna andare a viso aperto, abbiamo le qualità insomma per pensare di girare la situazione. Lo Zaxa passa all'Eurosuole 3 a 1, alla Lube solo il secondo set, peraltro vinto largamente in una gara di grande sofferenza, con gli altri tre parziali sempre in alta lena, ma alla fine vinti dai polacchi. Più leggero lo Zaxa, ma al tempo stesso anche più deciso. Perso il primo set, la Lube sembra sciogliersi finalmente nel secondo, ma poi la grande applicazione difensiva dei polacchi torna ad essere protagonista e come altre volte Civitanova non ha sempre la pazienza giusta per chiudere gli scambi. Forse paga anche il lungo momento di pausa della Superlega, che non la fa arrivare al match rodata al meglio. Creare situazioni di questo genere, di questo tipo di partita, di queste tensioni, in allenamento non le fai, quindi io sono di quelli che è meglio giocare e allenare un po' meno. E per una squadra come la nostra noi abbiamo bisogno del primo partita, quindi queste due settimane noi ci abbiamo allenato bene, veramente bene, però dopo la partita è tutta un'altra cosa. Più muri, 12-7 per i ragazzi allenati da Gerbic, che alla fine hanno anche una migliore percentuale d'attacco. Il ritorno in Polonia si gioca tra una settimana, il 3 marzo. Il colpo è pesante, ma la Lube non è campione di tutto, per caso. Non è il momento di abbassare la testa, le partite più importanti sono avanti. C'è ancora una grande occasione, ho chanza per andare avanti in Champions League. Basta solo vincere in Inzaxa e prendere anche il Golden Set. Quello è più che possibile.